No, no, mi fa ridere al dia che noi abbiamo perso, quindi non sto qua a sfottere e quant'altro. Mi fa ridere perché appunto ci sfottevano un po'. Io, Juventino, è giusto che muova le critiche contro la Juve quando perde a Monza facendo una prestazione indecente. Quanto meno l'Inter oggi ha giocato, ha fatto la sua partita e diciamo che bisogna anche contestualizzare le partite. No, oggi l'Inter sfiora più volte il 3-1, gli annullano il gol, prende il palo e quant'altro. E pareggia il 92esimo, ti incazzi, perché ti incazzi giustamente. Soprattutto perché comunque è una notte di merda come Simon Inzaghi. Però quantomeno l'amore di gioco ce l'hai avuta. Noi abbiamo perso a Monza senza fare nulla praticamente, quindi sinceramente sotto quell'aspetto. Sono due risultati che, a parte che uno è un pareggio e l'altro è una sconfitta, ma sono due risultati totalmente diversi, ottenuti in maniera diversa. Però al di là di questo, ragazzi io veramente, se fossi interista per fortuna non lo sono. Io con Inzaghi sarei molto preoccupato, perché l'Inter per me continua ad avere la rosa superiore, non di tanto, ma superiore a tutte le altre. e rischia di non vincere per il secondo anno di fila del campionato. Per il secondo anno di fila, che ha la rosa superiore dai tempi appunto di Conte, da quando ha vinto il scoletto con Conte, rischia di non vincere con Simon Inzaghi per il secondo anno di fila il campionato. Simon Inzaghi rischia di saltare, nel senso che se non vince neanche quest'anno per me salta la panchina sua. Quindi, ragazzi, oscena questa, cioè non l'Inter, perché per me, io l'ho vista, per me, la squadra in questo inizio del 2023 che a livello atletico sta meglio di quelle che stanno sopra. Quindi, se fossi interista a livello di atletica non sarei preoccupato, sarei preoccupato per l'atore che ho. Perché, ripeto, tra Juventus, Inter e Milan, tra queste tre, nonostante giochi malissimo, giochi, non abbia idee offensive, essendo un campionato comunque mediocre, la squadra che può comunque, diciamo, ostacolare il Napoli per il suo terzo scudetto, la squadra principale per me rimane la Juventus di Massimiliano Allegri. Lo dico da settembre e lo continuo a dire. Poi, ripeto, l'ho detto oggi nel mio video, non sempre ti può andare bene se sei sempre in bilico fino all'85esimo, perché contro la Cremonese ti è andata bene, contro l'Udinese ti è andata bene, perché sono due squadre comunque di merda, sia davanti sia dietro. Quando troverai una squadra magari più organizzata e più in condizione, soprattutto magari non la vinci, magari la perdi te al 92esimo, e là non voglio sentire parlare di sfortune, di stronzate, va. Quindi, però, stai fatto che appunto, tornando a Monza Inter, l'Inter ha dominato, e questi sono due punti buttati, due punti buttati, perché là, ripeto, hai avuto l'occasione di chiuderla. Qua, più che altro, no, a di là di Simoninzaghi, ti incazzi con gli attaccanti, anche se Lautaro Martinez, ad esempio, era tanto che non lo vedevo bene così, no? Perché oggi per me ha fatto una buona partita, però ha preso quel palo che, siccome l'ha tirata un po' troppo di sufficienza, con sicurezza di fare gol, e altre due o tre situazioni che si potevano risolvere in maniera migliore, invece l'Inter si è mangiata appunto la vittoria, così. E il Monza, quindi, rimane vivo, rimane vivo. Boh, vedremo, un campionato strano, dall'inizio del 2023, dopo la pausa lunga del Mondiale, e più la sosta natalizia, sarà ancora più strano, lo stiamo vedendo, ma staremo bene. E l'Inter, comunque, adesso, è a tre lunghezze da noi, e noi allunghiamo, giocando di merda, cioè, questo vi fa capire quanto mediocre sia sto campionato. Cioè, le partite di intensità che vediamo qua, tra le prime della classe, in Premier League, le vediamo tra le squadre che sono a metà classifica, giusto per farvi capire quanto siamo indietro. Non è un discorso solo di giocatore, è un discorso proprio di mentalità, che non abbiamo, purtroppo. Vabbè, buona serata a tutti, fino alla fine è sempre comunque Forza Juventus, e ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Ciao a tutti.